e poi c'è proprio questo è l'applauso per tutti voi che siete arrivati alla giornata ispettoriale che è bellissimo perché poi le fma fanno delle cose ma io non so se avete notato laggiù maestro dell'eality il punto interrogativo è doppio insieme forma un cuore perché è una cosa che solo le fma sanno fanno hanno trasformato una domanda in una domanda d'amore un dubbio nella vocazione più grande solo loro ce la fanno e solo loro potevano inventarsi uno slogan come con o senza te non è la stessa cosa no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti